Circa 1.070 firme raccolte dalla delegazione delle famiglie pratolane per richiedere moduli provvisori. La petizione viene portata avanti dopo l'incoraggiamento del ministro dell'istruzione e dell'università della ricerca Stefania Giannini che nella recente visita istituzionale a Pratola Pelinia ha ritenuto la concessione dei MUSP un ostacolo non insormontabile. A fare il punto nel corso del convegno sulla sicurezza sismica svoltosi oggi nella sala Zeus e non si è liberatore in rappresentanza della delegazione dei genitori. Circa 1.100 firme, stiamo ancora finendo comunque il conteggio e il controllo delle firme, dovrebbero essere in tutto 1.100. Noi comunque continueremo a premere perché questo avvenga, continueremo a fare quello che c'è possibile fare come delegazione dei genitori. Studiare in piena sicurezza, conoscere il terremoto e prevenire le conseguenze, questo è il motto del convegno che ha visto a confronto gli interventi dell'ingegnere Rino Liberatore e del geologo Antonio Palombizio. Amica, il perché anzitutto di questo appuntamento? Allora, abbiamo organizzato questo appuntamento insieme con la delegazione per mettere a conoscenza tutti i cittadini, tutta la cittadinanza di Prato, in particolar modo i genitori che mandano i figli tutti i giorni a scuola su quello che possono essere, su quello che è effettivamente il terreno dove noi abitiamo, dove noi abbiamo costruito le nostre abitazioni e anche gli edifici pubblici, così come le scuole, per capire effettivamente quali sono le prevenzioni che si possono fare e eventualmente come prevenire appunto il terremoto e quello che si può fare dopo, come reagire ad eventuali terremoti abbastanza importanti.